Quattro nuovi posti di terapia intensiva all'interno del delta chirurgico sono stati inaugurati nell'ospedale San Salvatore dell'Aquila. Si tratta di ulteriori posti del reparto di terapia intensiva che vanno ad aggiungersi agli otto già disponibili e che, fatto importante, resteranno anche dopo la fine della pandemia. Questi nuovi posti letto sono stati attivati all'interno del delta chirurgico, primo piano, nel blocco operatorio, sono stati realizzati con una spesa di circa 850 mila euro attinti ai fondi statali previsto dal decreto legge 34. I lavori sono durati circa quattro mesi. Questi ulteriori quattro posti letto vanno a incrementare quelli già esistenti e quelli che sono già stati attivati. Sono un investimento in tipo strutturale, nel senso che rimarrà anche dopo la fine della pandemia. Sono dei posti adiacenti al blocco operatorio e alla rianimazione già esistente. Voglio ricordare che questa norma prevede, con l'occasione del covid, l'incremento, il raddoppio, circa il raddoppio, dei posti letto di terapia intensiva generale. Quindi è evidente che in questa prima fase possono essere utilizzati anche per il covid. Infatti c'è tutta la tecnologia per poterli utilizzare per il covid. Ma finita, speriamo quanto prima possibile, la pandemia covid, devono essere posti integrati nella rete di teleterapie intensive nazionali. Questi qui sono i primi quattro posti, dopodiché noi già dalla settimana prossima andremo ad attivare un nuovo cantiere, questa volta con finanziamenti non pubblici ma privati da donazioni, che ci permetteranno di incrementare di ulteriori quattro posti, più ci permetteranno di ristrutturare due esistenti. Quindi alla fine di questa operazione avremo a disposizione 16 posti terapia intensiva generale.